a questo questo è stupendo questo è un altro cavallo che ho preso io quest'estate ha fatto qualche corsa giù in sardegna non ha fatto niente di che però secondo me c'ha i mezzi ora poi lo presentiamo vediamo c'è un bel fisico come va sì sì in corsa l'ha fatto calava sempre un cavallo un po irruente l'ho preso da dove ho preso denise l'anno scorso è un cavallo e secondo me le qualità c'era però bisogna aspettarlo anche l'ufficio il fisico anche il fisico prezzoloso si si a voglia voglia c'è un bel fisico a torillino c'ha sempre da sfinarsi un po c'è ancora il pancione dell'inverno però tanto le fasce sono le fasce da riposo di scuderia è un'estate alle valle le ho messe prima perché siamo un tardo pomeriggio si è già iniziato a fare scuderia se no non c'è problemi per quello benissimo è stupendo l'orda e la che il nome senti è stupendo l'orda seccatura lo vedi è secco finito ha detto intervistare tradici domandolo a antonio ma la notte domanda l'antonio per farlo parlare ci vuole largari ma nel tuo capitale pinze ti ho fatto prima che ti aspettavo da lì noi facciate la delinquente ma è un po delinquente ce l'ha abbulcito ma delinquente e la storia lì io mamma ha fatto gli occhi lì ok